Innanzitutto abbiamo presentato ai parlamentari, ai senatori, che stanno discutendo la legge di stabilità, le 75.000 firme raccolte tra i cittadini italiani che chiedono che la spiaggia più bella del mondo, la spiaggia rosa di Budelli, entri nel patrimonio dello Stato. Un privato l'ha acquistata per una cifra tra l'altro bassissima. L'emendamento presentato dal gruppo misto SEL al Senato è un emendamento che prevede che il Parco Nazionale, che ha già detto che vuole esercitare la prelazione, possa comprare questa spiaggia. Hanno messo a disposizione anche i 3 milioni necessari. Significa che i ministeri italiani faranno qualche convegno in meno, daranno qualche contributo in meno e faranno in modo che invece il Parco Nazionale della Maddalena abbia una spiaggia che è il suo simbolo nel patrimonio del Parco. Per salvaguardare questo territorio bisogna assolutamente garantire che si eserciti il diritto di prelazione. L'esercizio del diritto di prelazione consente allo Stato di subentrare al privato, che è un banchiere neozelandese che vorrebbe utilizzarlo per sue finalità private. Noi pensiamo che uno dei più grandi patrimoni dell'umanità, quello che c'è raccontato nei film di Antonioni, quello che è stato visto da milioni di persone, non possa diventare un bene privatizzato. Insomma, in un'epoca nella quale si propone di vendere le spiagge, noi pensiamo che bisogna restituirle alla cittadinanza. Ed è grazie anche ad una petizione come quella di Change.org che si stanno mobilitando tanti cittadini per impedire che ciò avvenga. A noi abbiamo lanciato anche oggi questa conferenza stampa per chiedere a tutti i parlamentari, i senatori, tutti i gruppi di poter firmare e approvare questo emendamento.